perché oltremodo ha dimostrato quanto sia forte questa squadra non solo nel senso di talento individuale ma matura per questo tipo di partite e questo mi fa dire che appunto dal nostro punto di vista abbiamo fatto un percorso importante stiamo facendo e seguiremo a fare un percorso importante ricordandoci che siamo un ordinari people e che questa qualità permettetemi di dire ci è servita ci servirà per ci servirà poi per il proseguo del campionato dico questo perché abbiamo fatto una partita tecnica invece avremmo dovuto fare una partita di tutt'altro livello parlo di difesa